Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Stacy Castor nasce il 24 luglio 1967 a Clay, New York. È figlia di Jerry Daniels e Judy Eaton. È una ragazzina con grandi sogni, ha sempre detto che da grande sarebbe diventata paralegale o avvocato. Così, arrivata alle superiori, sceglie corsi che le sarebbero stati di aiuto durante il suo percorso. Tuttavia mette da parte i suoi sogni a 17 anni quando incontra il giovane Michael Wallace, che afferma essere l'amore della sua vita. Racconta alle persone che è stato proprio amore a prima vista. Michael è descritto dagli amici come l'anima della festa. Se hai bisogno di qualsiasi cosa, e Mike è in grado di offrirtela, lo fa. Stacy afferma, cinque minuti dopo che ci siamo incontrati, mi sono resa conto che era l'uomo che avrei sposato. E così è, i due si sposano con una piccola cerimonia il 7 aprile 1990. Due anni prima, nel 1988, la coppia ha avuto la prima figlia, Ashley, e l'anno successivo al matrimonio arriva la seconda, Brie. A uno sguardo esterno, la famiglia sembra normale e felice, anche se hanno avuto problemi finanziari. Stacy lavora per una compagnia di servizio ambulanze, mentre Michael è un meccanico. La coppia deve risparmiare ogni centesimo per rimanere a galla. Nonostante questo, le persone la ritengono una famiglia unita. Però girano alcune voci e si dice che Michael abbia problemi di abuso di sostanze e alcol e che, a un certo punto, se lui che Stacy hanno avuto relazioni extracognugali. Nonostante ciò, tengono duro. La figlia maggiore, Ashley, è più legata alla mamma, mentre la piccola, Brie, più al papà. Le bimbe hanno un rapporto molto stretto con i genitori, mentre Stacy e Michael sembrano più distanti. A quanto sembra, amore a prima vista non equivale ad amore per la vita. Resistono per le figlie, anche se voci dicono che Stacy stia cercando un avvocato divorzista. Nell'inverno del 1999, le cose volgono al peggio. Michael comincia a stare sempre molto male e non riesce a capire il perché. Ha improvvisi attacchi di tosse, incomincia a vacillare e si sente poco lucido, come se fosse ubriaco, anche se non beve nulla. I dottori non hanno idea di che cosa abbia che non va. Pensano che possa avere un disturbo interno all'orecchio, ma servono ulteriori test. Sfortunatamente non hanno la possibilità di farli. Un giorno, Michael ha un altro di questi misteriosi attacchi. La figlia più grande, Ashley, l'unica a casa col papà in quel momento, lo avrebbe descritto poi come particolarmente pallido e malato. La piccola disse, a un certo punto si mise seduto, vomitò sul tavolino da caffè e poi si rimise sdraiata a dormire, come se non fosse successo niente. È l'11 gennaio del 2000 e Mike Wallace viene trovato senza vita sul divano. Muore a 38 anni. Secondo i dottori si è trattato di arresto cardiaco. Inusuale per un uomo così giovane, ma non è impossibile. Quello che è veramente triste è che Ashley, che ha solo 12 anni, incolpa a se stessa per la morte di suo padre, perché ha visto che stava molto male e non lo ha incoraggiato ad andare dal dottore. Molti membri della famiglia di Michael chiedono che venga effettuata un'autopsia. Non credono che abbia avuto un attacco di cuore. In particolare, dopo tutti i sintomi strani che aveva mostrato appena prima della sua morte. Tuttavia, Stacy, che è il suo parente più prossimo, si rifiuta. Dice di avere completa fiducia nella convinzione dei dottori che si sia trattato di un arresto cardiaco. Fa quindi seppellire il marito in uno dei cinque spazi di famiglia che possiede al cimitero locale, con una lapide che i due condivideranno quando arriverà il momento della donna. La pietra porta l'incisione insieme per sempre. Stacy entra anche in possesso dei 55 mila dollari provenienti dalla polizza sulla vita di Michael. L'anno successivo Stacy incontra il suo secondo marito, David Kestor, e la coppia si sposa nel 2003, anno in cui la donna cambia legalmente il suo cognome con quello di David. L'uomo, che era già stato sposato, ha un figlio ormai adulto di nome David Junior, e Stacy ha con sé le figlie nate dal primo matrimonio, ora adolescenti. Ashley e Bree ammettono di aver avuto problemi con il matrimonio della madre. Soffrivano ancora molto per la morte del padre e non volevano che qualcuno si intromettesse cercando di prendere il suo posto. Stacy avrebbe detto poi, David era rigido con le bambine, si aspettava che loro facessero quello che voleva lui senza fare domande. Essendo le mie figlie, facevano domande per tutto. David è proprietario di una compagnia di installazione e riparazione di condizionatori, e Stacy lavora per lui come capo ufficio. Durante i primi anni di matrimonio, nonostante lo scontento delle figlie di Stacy per la situazione, gli amici e la famiglia li descrivono come una coppia felice. Nell'agosto del 2005, un pomeriggio attorno alle 14, Stacy chiama il 911 dicendo che il marito David si è chiuso nella loro camera da letto, non esce e non risponde. Sottolinea che è molto preoccupata per la sua salute, perché l'uomo è depresso e i due hanno avuto una discussione molto accesa quello stesso giorno. Ha paura che possa essersi fatto qualcosa. Quando la polizia arriva a casa, chiama ripetutamente David dal corridoio, cercando di farsi aprire, ma non ottengono risposta. I poliziotti tirano giù la porta della stanza, dunque. Trovano David sdraiato sul letto, nudo, senza vita. Vicino a lui, sul materasso e per terra, c'è del vomito. Sul comodino, un bicchiere con un liquido verde e un flacone di antigelo spunta da sotto il letto. Stando a quanto racconta il sergente Robert Willoughby, quando Stacy vede suo marito, urla Non è morto! Non è morto! I paramedici si occupano del corpo di David, ma è chiaro che è troppo tardi. Una tragedia ha colpito Stacy. Di nuovo, visto che sembra un chiaro caso di suicidio. La donna racconta alla polizia che David ha recentemente perso suo padre e che il lutto lo ha sconvolto e depresso. Probabilmente per questo ha deciso di togliersi la vita. Nonostante questo, Janice, l'ex moglie di David, rifiuta l'idea che si sia ucciso, dicendo che non avrebbe mai preso in considerazione il suicidio e che non aveva precedenti di depressione. La polizia inizia a pensare che forse c'è qualcosa altro sotto, specialmente dopo che trova nel cestino della cucina una siringa dosatrice per arrosti su cui sembrano esserci tracce di antigelo. Per questo motivo decidono di analizzare la scena e compiere ulteriori indagini. Si scopre che la siringa ha il DNA di David sulla punta e antigelo all'interno. Perché mai avrebbe dovuto usare una siringa per arrosti per ingerire l'antigelo? O forse qualcuno gli aveva somministrato il veleno con la forza? Trovano inoltre le impronte digitali di Stacey sul bicchiere mezzo pieno di antigelo che era sul comodino. Ovviamente ci possono essere ragionevoli spiegazioni. La donna vive in quella casa e ha accesso alla cristalleria, chiaramente. Può aver preso in mano il bicchiere in qualsiasi momento e lasciato le sue impronte. Ci sono però altri elementi che rendono sospettosi i poliziotti. Il testamento di David è stato aggiornato e modificato di recente per lasciare la sua intera fortuna di 300.000 dollari alla moglie Stacey, tagliando del tutto fuori suo figlio David Junior, che non avrebbe ricevuto un soldo. La polizia inizia quindi un'indagine, un'indagine che dura ben due anni. Una delle azioni intraprese è quella di mettere sotto sorveglianza il cimitero. Insomma, Stacey ha seppellito David a fianco al primo marito, Michael. La polizia pensa che se la donna è davvero la vedova in lutto che si cura così tanto del marito morto, farà visita alla tomba a un certo punto. Ma c'è un problema. Non va mai al cimitero. Mai. Iniziano quindi a intercettare il suo telefono nella speranza che riveli qualche nuova informazione. La polizia inizia a notare alcune somiglianze tra le morti dei due mariti di Stacey. Sia Michael che David sono morti in circostanze misteriose, lasciando tutti i loro averi a Stacey. Quindi, gli inquirenti pensano che sia possibile che la donna li abbia avvelenati entrambi. Ovviamente si tratta di una mera ipotesi, per ora. C'è bisogno di prove evidenti per costruire un caso. Così riescono a ottenere un mandato per riesumare il corpo di Michael. Il primo marito di Stacey, ritenuto morto per attacco cardiaco dopo aver sofferto per settimane di una misteriosa malattia, viene eseguita l'autopsia e il patologo afferma che il corpo di Michael è pieno di cristalli. Un esame tossicologico stabilisce che anche Michael è stato ucciso con l'antigelo, esattamente come David. Portano Stacey alla centrale per interrogarla e la donna ha un lapsus freudiano. Un lapsus freudiano si ha quando si intende dire una certa cosa, ma il subconscio prende il sopravvento e ti fa dire quello che stai realmente pensando. Gli investigatori chiedono alla donna se si ricorda in quale bicchiere aveva versato il succo di mertillo, visto che sono stati trovati due bicchieri sul comodino. E Stacey inizia a rispondere, beh, quando ho versato l'antig... Poi si ferma e dice, voglio dire, il succo di mertillo. Dopo questa gaffe, si rifiuta di rispondere a ulteriori domande e accusa la polizia di volerla incastrare. Anche se a me sembra che si sia incastrata da sola, ma procediamo. Da quel momento la donna è conscia di essere sotto stretto controllo e che la polizia sta cercando minuziosamente la connessione tra le morti dei suoi due mariti. Ora sa che hanno riesumato il corpo di Michael e scoperto che è stato avvelenato, ma ancora non hanno abbastanza prove per trattenerla. Così la lasciano andare. Pochi giorni dopo, gli investigatori chiamano Ashley, la figlia maggiore, che è al primo giorno di college per metterla al corrente delle loro scoperte. Il padre è stato avvelenato con l'antigelo e non è morto per arresto cardiaco. Ovviamente la ragazza è totalmente sconvolta, ma non ha idea di chi possa aver fatto una cosa del genere. Ricordate, lei è molto legata alla madre ed è una delle sue migliori amiche, quindi non può neanche immaginare che la sua mamma abbia potuto o voluto fare del male al padre. Ashley chiama sua madre per confortarla e la polizia è in ascolto. Sentono Stacy chiedere alla figlia che cosa le ha chiesto la polizia e se hanno qualche sospetto. Poi Stacy invita Ashley a tornare a casa così da farsi qualche bicchierino insieme. La situazione è stressante e questo può essere un buon modo per loro per rilassarsi. Chiariamo una cosa, la ragazza è ancora minorenne al momento, quindi pensa che sia molto bello che la sua mamma le offra da bere. Ashley torna a casa e le due si fanno qualche drink. La ragazza si stanca, si addormenta sul suo letto, si sveglia poi con il dopo sbronza ed esce per il suo secondo giorno di università, la mattina successiva. Dopo scuola torna a casa e Stacy suggerisce di prendere ancora un goccetto per celebrare in anticipo il ventunesimo compleanno di Ashley. Questa volta la mamma stava preparando dei cocktail. Ovviamente la ragazza non pensa ci sia niente di male al riguardo, visto che si fida ciecamente di sua madre. Quel drink ha un sapore disgustoso, stando a quanto ha raccontato poi Ashley. Quindi Stacy le dà una cannuccia, le dice di appoggiarla alla lingua e bere. Il drink è solo molto alcolico, da qui il sapore è forte. E Ashley, sempre fidandosi di sua madre, lo beve. La ragazza ha raccontato poi che si è subito sentita molto stanca ed è andata nella sua stanza a sdraiarsi. La mattina successiva la sorellina Bree va a svegliarla e la trova sul letto, immobile. Corre quindi dalla madre a dirle che Ashley non respira. E qui la situazione diventa assurda. Bree lascia la sorella per chiamare il 911. Al ritorno trova una lettera che non aveva mai visto prima, poggiata accanto alla ragazza. Quando arrivano i paramedici stessi, da loro la lettera, mentre trasportano Ashley all'ospedale in ambulanza. Gli esami hanno poi determinato che le era stata somministrata somministrata una dose potenzialmente letale di antidolorifici e che, se fosse stata trovata anche solo qualche minuto più tardi, sarebbe morta. La nota trovata vicino alla ragazza si rivela essere una lettera di suicidio con annessa ammissione di omicidio. Ma ora la leggiamo. Vi anticipo che questa lettera è scritta come un fiume in piena, non ha virgole, non ha punti. Io invece la punteggiatura ce l'ho aggiunta, perché altrimenti non sarei stata in grado proprio di leggerla. L'ammetto, insomma. Mamma, quando leggerai questa lettera ricorda che ti amo e che tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché ti amo. Mi spiace, mamma, che tutto questo sta accadendo a te, ma ora tutti sanno che cosa è successo e che non eri tu, ero io. Nessuno doveva sapere di papà. Ti ho detto quando papà è morto che era tutta colpa mia. E era papà che stava facendo cose che tu non sapevi. Lui beveva quando andava al pick and pull house e da Lisa stava anche fumando. Io lo avevo visto, era cattivo con te e con me. Amava solo Brie. Non potevo fargli fare quelle cose a te. Ancora pensi che non ricordo come andavano le cose, ma io lo ricordo e non voglio vivere così. Non più. Non era giusto né per te né per me. Papà non era buono con te e con me. Solo con Brie. Non ce la facevo più. I poliziotti hanno detto che c'era antigero nel corpo di papà, ma non hanno detto a nessuno del veleno per topi. Quando sono tornata da scuola quel giorno, sapevo cosa stava succedendo. Papà respirava poco. Sapevo che stava per morire. Ecco perché non ho chiamato te o qualcuno per aiutarmi. Volevo essere sicura che non potesse essere cattivo con te e con me mai più. È morto prima che sono andata a prendere Brie a scuola. L'ho visto e sapevo che non poteva più farti male e siamo state felici per un po' noi tre. E poi tu hai sposato David e lui era cattivo con te. Era cattivo con tutte noi. Più cattivo di papà. Io sapevo che amavi lui come avevi amato papà e stavi permettendo a lui di trattarti come ti trattava papà. E non lo avrei permesso. Mamma, non era giusto. Lui non amava te, me o Brie. Non ho mai pensato che qualcuno sentiva la mancanza di David, ma tu lo amavi ed era più difficile che con papà perché eri sempre a casa o con lui. Ma mi sono assicurata che non avrebbe fatto male a te mai più quel venerdì quando David venne a casa, così tu potevi andare in posta. E quando l'ho fatto è stato facile. Gli ho chiesto se voleva qualcosa da bere. Ho messo l'antigelo nel suo bicchiere con la soda. Ha bevuto più bicchieri da solo. Il fatto è che con David ci ha voluto di più che con papà. Dopo che ho messo l'antigelo nel Gatorade di papà ci è voluto solo un giorno più o meno e lui è morto quando tu stavi dormendo sul divano. Dopo che David si è chiuso nella stanza ho preso la chiave in più perché sapevo che l'aveva nascosta. Ho messo delle cose nella stanza e ho cercato di fargli bere un po' di antigelo con la seringa ma non era cosciente e non ho potuto. Ho messo l'antigelo nel bicchiere e sul pavimento e ho lasciato la bottiglia nella camera. Poi ho messo i guanti in cucina e mi sono preparata per il lavoro. Non lo avresti saputo e sapere che quei poliziotti stanno dicendo tutte queste cose su di te sai che ti voglio bene mamma, non è giusto. Quando mi hai detto che avevano tirato fuori papà sapevo cosa stava per succedere nessuno doveva sapere mamma e ora lo sanno e pensano che sei tu ma non sei tu sono stata io quando i poliziotti sono venuti alla mia scuola oggi ho pensato che avevano capito e che stavo per andare in prigione ma non mi hanno preso mamma non posso vivere così e vedere cosa stanno facendo a te ma non posso andare in prigione per il resto della mia vita non posso farcela ho fatto l'unica cosa che poteva aiutarti mamma so che mi odi per quello che ho fatto ma mamma ricordati che ti amo più di qualsiasi cosa e l'ho fatto per te per favore perdonami mamma un giorno quando tutto questo sarà finito perdonami prenditi cura di Bri e tutto ciò che ti è rimasto ora quanto siamo state felici insieme e sarai felici ancora te lo prometto mamma di a Matt che lo amo e mi dispiace e di a Bri di fare la brava per te ti voglio bene per favore non odiarmi ricordati che ti amo Ashley questa è una lettera interessante vero? un fiume in piena di frasi senza punti o punteggiatura e piena di errori di scrittura quando Ashley si risveglia dal suo stato comatoso la polizia ha molte domande per lei la ragazza ha raccontato mi sono svegliata in ospedale non avevo idea di che giorno fosse né di dove mi trovassi uno dei detective mi faceva domande del genere che cosa c'era nella lettera che hai scritto? e io che lettera? di che pillole state parlando? tutto quello che ricordo è che stavo bevendo con mia mamma io so solo questo è subito chiaro che Ashley non ha scritto la lettera di confessione non ha ucciso suo padre né il suo patrigno né ha cercato di togliersi la vita Stacy ha avvelenato sua figlia e ha messo la lettera accanto a lei nella speranza di ucciderla e di farle prendere la colpa per gli omicidi proprio la figlia che le è più legata e che la considera la sua migliore amica la donna viene arrestata all'ospedale e accusata dell'omicidio del marito David Kestor ed è il tentato omicidio della figlia Ashley viene incriminata per omicidio di secondo grado tentato omicidio di secondo grado e manipolazione di testamento ovviamente Stacy nega il coinvolgimento tanto della morte del marito che dell'avvelenamento della figlia ma per fortuna l'accusa ha un grande quantitativo di prove a conferma della propria tesi la donna va a processo nel gennaio 2009 una delle prove che viene presentata è la lettera trovata vicino ad Ashley il pubblico ministero asserisce che Stacy ha scritto la nota per incastrare la figlia una delle ragioni che ha portato a questa conclusione è il modo in cui è scritta la parola antifreeze ossia antigelo nella lettera c'è scritto antifree lo stesso termine usato da Stacy negli interrogatori della polizia altro particolare interessante dopo un rapido controllo al computer che si trovava a casa di Stacy la polizia ha avuto la conferma che la lettera era stata scritta proprio con quella macchina e la figlia Ashley si trovava a scuola quando la nota è stata scritta e stampata l'accusa fa inoltre riferimento al bicchiere trovato nella camera di David Castor con le impronte di Stacy e alla siringa per arrosti con tracce di antigelo trovata nel bidone dei rifiuti a casa la siringa ha il dna di David sulla punta perché mai l'uomo avrebbe dovuto usare una siringa per arrosti per avvelenarsi da solo Stacy ha somministrato con la forza il veleno all'uomo nonostante la gran parte delle persone credano nella colpevolezza di Stacy molti incominciano a chiamarla vedova nera la madre della donna rimane al suo fianco credendo che sia stata davvero la nipote Ashley a uccidere i due uomini esattamente quello che sostiene la difesa nonostante Ashley avesse solo 12 anni al momento della morte del padre gli avvocati di Stacy infatti affermano che Ashley ha sempre avuto problemi psicologici che ha avuto molte occasioni per uccidere entrambi gli uomini e che la sua lettera di confessione conferma tutto alla fine dopo 4 giorni per deliberare la giuria non si dimostra d'accordo con la difesa Stacy viene accusata di omicidio di secondo grado per la morte di David Kestor di tentato omicidio della figlia e di aver falsificato il testamento di David così che tutti gli averi dell'uomo fossero lasciati a lei viene condannata a 51 anni di prigione ma praticamente ne sconta 7 dal momento che muore in carcere per attacco cardiaco a 48 anni nel 2016 non ci sono sospetti cerca la sua morte sembra una morte naturale né Bree né Ashley parlarono con la madre dopo il processo e onestamente non le biasimo per questo è davvero incomprensibile che una mamma cerchi di uccidere uno dei suoi figli e di accusarlo di due omicidi da lei commessi il tutto per salvare se stessa la figlia maggiore nel corso di una conversazione con il giornalista David Muir ha detto odio mia madre per aver rovinato la vita di così tante persone che o cosa le ha dato il diritto di giocare a fare Dio con le vite degli altri non sapevo che cosa fosse l'odio fino ad ora nonostante io la odi non posso fare a meno di volerle bene allo stesso tempo avrei fatto qualsiasi cosa per lei ma invece ha deciso di uccidermi Tessie ha continuato a sostenere la sua innocenza fino al giorno della sua morte dicendo che Ashley sapeva cosa aveva fatto la donna è sepolta accanto al suo primo marito Michael Wallans stava per essere tumulata a fianco di David Kestor ma per fortuna il figlio dell'uomo è riuscito a far spostare la salma del padre nella tomba di famiglia riuscite a immaginare questa donna sepolta tra i due mariti che ha ucciso è disgustoso anche solo a pensarci per quanto mi riguarda è stato anche ipotizzato che Stessie possa aver ucciso suo padre Jeffrey Daniels era entrato in ospedale nel 2002 per un disturbo ai polmoni ma secondo i referti medici durante la degenza stava migliorando morì all'improvviso il giorno dopo aver ricevuto la visita della figlia la donna fu vista portare all'anziano una lattina di soda aperta e girano voci che potrebbe averla avvelenato come aveva fatto con i due mariti come esecutore testamentario Stessie ha fatto cremare il padre e ha ottenuto accesso ai suoi beni l'uomo è stato tumulato nello stesso cimitero in una tomba vicina a quella della figlia chiariamo non ci sono prove di questo presunto terzo omicidio e molto probabilmente non ce ne saranno mai ma tutto è possibile dal momento che sembra non esserci stata fine alla cattiveria di questa donna nel 2020 Lifetime una tv via cavo statunitense ha prodotto Poisoned Love The Stacey Kester Story che ripercorre la vicenda degli omicidi compiuti da Stacey e il successivo processo il film è diretto dal regista canadese John Donovan e per il ruolo di Stacey Kester è stata scelta Nia Vardalos la messa in scena rimane abbastanza fedele alla storia originale ma sono stati fatti alcuni cambiamenti la vicenda viene ambientata nella città inventata di Midland e non in un soborgo di Syracuse la casa dei Kester è molto più grande di quella originale nella pellicola viene eliminata la figura del figlio di David mentre aumenta lo spazio dedicato alla figura della madre di Stacey che ricordo ha sempre sostenuto l'innocenza della figlia nonostante le ricerche non sono riuscita a trovare tracce di una versione italiana del film ma se avrò notizie in futuro ve lo farò sapere detto questo ho finito di parlare in questo video fatemi sapere se avete trovato interessante questo caso ma soprattutto lo conoscevate fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti sono molto molto curiosa io nel frattempo vi mando un bacio noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.